Oh ragazzi bentornati a questo nuovo video dedicato alla Universal Audio Vault 1 Oggi andiamo a vedere come suona, faremo qualche test, ci registreremo delle voci, proveremo vari microfoni, la metteremo sotto torchio e vediamo come si comporta Ok ragazzi sto provando questa scheda ormai da svariate ore, non so perché sto tenendo ancora la scatola in mano tipo modello vi prenderei la scheda però c'è l'ho lì che sta registrando, bellina, carina, con tutte le sue lucine a proposito tantissime luci e oggi andiamo a vedere un po' come si comporta anzi fatemelo sapere voi perché la voce che state sentendo adesso è registrata proprio dalla Vault 1 ci ho collegato il mio Stellar X2, lo dico sempre il microfono preferito della vita lo trovate in descrizione se volete darci un'occhiata, non è tra i microfoni più economici però la voce che state sentendo adesso è chiaramente trattata per youtube, sto registrando in logic come potete vedere, però adesso switchiamo, vi faccio sentire un pezzettino di voce RAW così come la scheda la percepisce, ok? quindi passiamo alla voce non trattata tra 3, 2, 1 ok ragazzi questo qui è un sample di come la Universal Audio Vault 1 cattura il mio audio grezzo così come le sta entrando dal mio Stellar X2 collegato all'unico ingresso della scheda l'opzione Vintage non è attiva e il gain, la manopola del gain è quasi a mezzogiorno poco sotto il 50% ok sono tornato alla voce trattata e adesso voglio fare un esperimento attiviamo il tasto Vintage mentre sto registrando così vedete un po' che cosa cambia se è una roba che può fare al caso vostro e ve lo faccio sentire sia trattato che grezzo ok? attivo il tasto Vintage tra 3, 2, 1 e questo è come suona la mia voce con il preset Vintage della Universal Audio Vault 1 il microfono è sempre lo stesso sempre lo Stellar X2 il gain sempre a poco meno del 50% e vedo che i livelli sono comunque ottimi adesso vi faccio sentire lo stesso sample però non trattato tra 3, 2, 1 e questo è come suona la mia voce con il preset Vintage della Universal Audio Vault 1 il microfono è sempre lo stesso sempre lo Stellar X2 il gain sempre a poco meno del 50% e vedo che i livelli sono comunque ottimi per ora devo dire che sono tremendamente colpito in positivo da questa scheda mi aspettavo qualcosa che fosse in linea con la Focusrite Scarlett e invece è molto molto meglio ad orecchio a parità di livello del gain quindi a parità di posizione del pomello il volume in entrata il volume che percepisco è nettamente superiore ok non di tantissimo però sentite la differenza inoltre la sento molto più dettagliata molto più brillante sia sulla voce che su altri strumenti adesso vi vi spiego tutto per bene vi faccio capire a che cosa mi sto riferendo altre due cose che veramente mi hanno lasciato di stucco sono il volume in cuffia che credetemi è impressionante impressionante c'è tantissimo volume in cuffia io con la Focusrite avevo il problema di non sentirmi bene mentre cantavo mentre registravo con questa qui ho scoperto che non era un problema mio che non sapevo registrare che non sapevo ascoltarmi mentre registravo che non sapevo addirittura cantare in cuffia perché uno poi se li pone questi problemi mi sono reso conto che era un problema di ascolto e probabilmente mi serviva un preamplificatore per cuffie da quando sto provando questa scheda problema risolto mi sento benissimo mi sento fortissimo e una cosa che ho notato è che questa cosa mi porta ad andare molto più a tempo per esempio mentre registro la chitarra cosa che prima era veramente un incubo e attenzione non sto parlando di livello in cuffia come potenza del suono sì quella immensamente più forte della Focusrite ma mi riferisco anche al Direct Monitoring prima utilizzare il Direct Monitoring ovvero il tasto Direct sulla Focusrite era praticamente impossibile il volume che percepivate in cuffia dalla scheda era sovrastato da quello che mandava alla vostra DAO dovevate abbassare i volumi a livelli inimmaginabili e va da sé che è difficile cantare a livelli bassissimi soprattutto se dovete urlare anche solo appena appena il Direct Monitoring che manda questa scheda è bellissimo ragazzi chiariamoci potrei tranquillamente essere io che non ho sentito di meglio però vi ripeto finora ho utilizzato una Focusrite Scarlett solo che è una delle schede più utilizzate su YouTube più utilizzate in un studio più vendute al mondo e posso dirvi che da utilizzatore di questa scheda l'ascolto che ho qui è di un altro livello se avessi dovuto fare il confronto soltanto basandomi sui convertitori dei preamplificatori ci avrei pensato eh ok perché la differenza c'è si sente ma non è tale da giustificare l'acquisto di una nuova scheda dalla Focusrite quando poi passi a giudicare i pro e i contro basandoti sull'ascolto e lì è tutto un altro paio di maniche io questa scheda ho già deciso solo dall'ascolto che la terrò la terrò non c'è niente da fare comunque non voglio bruciarmi da subito lunedì uscirà il mio confronto tra questa scheda e la Scarlett e dopo di che farò un video di considerazioni finali più a mente fredda però adesso per come sto sentendo le cose per come devo giudicarla così su due piedi per me è uno switch immediato ve l'ho già detto io di questa scheda non conosco neanche i dati tecnici e francamente non mi interessano se suona e se si sente come piace a me e anzi a questo punto mi sembra giusto anche ringraziare nuovamente gli amici di Musical Store 2005 che mi hanno permesso di provarla perché mi rendo conto che è un privilegio non da tutti poter provare qualcosa prima di acquistarlo chiariamoci è perché bisogna essere assolutamente trasparenti su questo se io adesso decido di tenere questa scheda e probabilmente deciderò di tenere questa scheda oggettivamente parlando la devo comunque pagare Musical Store non mi sta pagando non mi regala il prodotto mi dà soltanto il privilegio perché secondo me è un privilegio di provarlo ok? che è quello che idealmente in un mondo perfetto tutti dovremmo fare prima di acquistare un prodotto audio perché acquistiamo un microfono sulla base delle recensioni magari non è il microfono adatto alla nostra voce acquistiamo una scheda sulla base delle recensioni anche sulla mia e per carità io non faccio la differenza magari non è quello che fa per noi acquistiamo uno strumento musicale senza provarlo che ne so acquistiamo una Martin una chitarra acustica della Martin andiamo a registrare il nostro primo demo il nostro primo brano farà tutto cagare perché la Martin suona fortissimo ed è una chitarra parlo delle concert difficilissima da microfonare se siete in casa chiaramente vedete va tutto ponderato e mi rendo conto che non è da tutti poter provare prima di acquistare quindi ringrazio ancora gli amici di Musical Store 2005 e nel caso voi vogliate andare a dare un'occhiata a questa scheda o vogliate acquistarla potete trovarla nel link in descrizione acquistando da lì sicuramente supportate il canale mi aiutate a portare più prodotti da recensirvi semplicemente non mi arricchisco detto questo lati negativi finora sostanzialmente uno la Focusrite Scarlett Solo si chiama Solo di nome però all'atto pratico ha due ingressi perché ha un ingresso microfonico Canon XLR e un ingresso jack quindi io finora potevo registrare volendo una voce e una chitarra in DI contemporaneamente per carità l'avrò fatto due volte in vita mia ma è a tutti gli effetti una possibilità che mi viene a mancare perché questa scheda ha un unico ingresso combinato Canon più jack quindi perdete di fatto un secondo ingresso per il resto non mi sento di criticarle altro ma passiamo a qualche altro test ok prendo un attimo la chitarra vi faccio sentire come suona la chitarra in questa scheda chiaramente switcho all'audio grezzo aspettate un attimo ok ragazzi sono in piedi non è la posizione ideale per la registrazione però vogliate perdonarmi scusate l'esecuzione ma la posizione è tremenda ok rieccoci quello lì era un test al volo su una chitarra acustica c'è un'altra cosa che vorrei controllare molto velocemente Universal Audio afferma che questa scheda qui sia in grado di spingere microfoni dinamici come l'SM7B senza bisogno di un mic booster voglio verificare questo non ho un SM7B proveremo con un normalissimo SM57 che anche lui è abbastanza duretto faccio una cosa non convenzionale che non si dovrebbe fare staccherò il canon del microfono mentre sto parlando spero di non spaccarevi le orecchie al massimo taglio ok e adesso sto parlando nell'SM57 non ho il pop filter quindi potrei fare casini ce l'ho a 5-6 centimetri dalla mia bocca e lo sto tenendo in mano vedo che il gain è notevolmente più basso provo ad aumentare un pochino il gain ok adesso il gain della scheda è quasi a 3 quarti sulla focus rate l'avrei considerato pericolosamente alto però vediamo quanto rumore di fondo tira fuori e vediamo come si comporta se veramente riesce a spingere un microfono dinamico con poco rumore di fondo chiaramente potreste sentire i rumori della stanza i rumori della strada mi interessa che non ci siano ronzii ed eccoci tornati al nostro Stellar X2 con la nostra voce trattata beh che ve ne pare fatemi sapere nei commenti se vi siete fatti un'idea magari voi possessori di focus rate sicuramente ce ne sarà qualcuno notate una gran differenza chiaramente non posso farvi ascoltare la differenza nell'ascolto però fatemi sapere se notate differenza nei pre nella nella qualità del suono nel dettaglio del suono ok devo dirvi che a me sta piacendo molto lunedì uscirà il confronto appunto con la focus rate scarlet solo e lì diciamo che tireremo un po' le somme faremo la resa dei conti tra le due vi farò sentire anche dei sample registrati con l'una e con l'altra ragazzi io ci tengo ancora a ringraziare gli amici di musical store 2005 per avermi dato il privilegio di provarla trovate il link in descrizione nel caso la vogliate acquistare o semplicemente vogliate dare un'occhiata alle specifiche tecniche e vi invito ad iscrivervi al canale così magari restate aggiornati sul confronto con la focus rate sugli altri video non è male è un canale simpatico ci divertiamo tanto ah a proposito per i soliti abitué fatemi sapere questa inquadratura come vi sembra sto cercando di allargare un po' il campo non lo so sto giocando un po' con le luci fatemi sapere come vi sembra la nuova inquadratura e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao